holo amico se benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qua su su super mario sport mix ovviamente come già sapete siamo in compagnia di mio padre ciao questo è il primo difficilissimo come ricordo stiamo registrando il secondo set subito col primo perché abbiamo detto dobbiamo finire questa partita ci proveremo ci riusciremo chissà infatti sono ancora molto casata vai facciamo questo secondo set siamo carichi adesso riusciremo a vincere perché me lo sento un salto gigante da parte di pizzo provai bravo provo a fare il muro io faccio un muro adesso ci sono io che provo a salvare si si tu sempre dietro hanno sbagliato loro si hanno sbagliato vanno sulla rete che sedere chi può darsi che sarà l'ultimo punto che faremo ah sicuramente bomba ci stava provando comunque anche loro possono fare il muro quindi sta attenzione lo so lo vedi che ci stava provando non si è sempre tempo aia c'è già cominciamo male con la fine è soltato avanti è perfetto almeno ci ha provato e non due stiamo avanti poi quello che succede succede eh già questo tira una bomba boom ok quel funghetto è nicidiato infatti vai oddio che cavolo non so cosa è successo prendi attenzione voglio fare le cose belle cavolo ma guarda copro eh si deve andare più avanti c'è più uo c'ha provato eh passi dai riprendi tipo la mira di dove potrebbe tirare ecco e poi bingo porca miseria stiamo riprendendo alla grande ragazzi 4 a 0 ok vai mamma già non ho saltato non ho saltato cosa è successo non ho fatto niente che devi cominciamo male comunque cominciamo male fai tu eh uo oh dove vai 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 va davanti eh si appadada tu sei 5 a 1 faccio il muro dai vai 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 ma io le diamo gigante e va e va cosa purtroppo il funghetto è amicidiaro infatti le prende tutte poi lo spero di tirare più in alto possibile ma niente l'avevi quasi preso e attenzione no ho fatto la finta e ha visto una bomba vorrei ragazzone aio della cumbia chi è? si va il supporto vado tutto che possiamo fare anche bingo ragazzi stiamo riprendendo a gonfie vele sinceramente non credo che dovevo dirlo no cavolo mi stavo puntando hai visto però ho visto che furbacchione fanno il funghetto non ha già costato il funghetto a te la vostra speciale è molto semplice ma se tiri bene proprio la bomba tira veramente attenzione l'avevi fermato infatti l'ho visto purtroppo non è stato abbastanza vabbè io ci provo sempre si si provo la ripresa eccolo qua è sempre meglio provare poi se ti fa la finta se proprio ci sono io tu devi sempre coprire dietro ti so sempre sotto ok faccio pure la finta scusa infatti è che non ci sono oggetti diciamo perché di solito hai visto che ci sono meglio oggetti eppure questa volta no non c'è niente pronta eh oh no volevo provare oh vai provo ogni tanto a fare la finta e lui ahia le banane fritte io faccio cioè si no mi pare lì perché ho saltato ho detto allora io salti in modo che io evito non è vero niente ok c'è ma qualcuno sta pensando girare in una trottola vai 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 tranquilla ah vedi furbacchione tirati va al giro ma adesso poi ci penso io al giro ragazzi 9 a 3 i vani di bellugno ci sta c'è una ripresa grandissima ragazzi non me l'aspettavo sincero non me l'aspettavo io ok la ripresa per fortuna io ci provo sempre in taglio ovvio ok ok ogni tanto faccio le finte ma wow no la ripresa attenzione l'ho preso in testa oh ho visto che finta che giro che ha fatto strada la palla no vabbè è sbagliato il taglio non ho coperto oh ho fatto il pallonetto hai visto? io non so come farlo sinceramente io lo so come farlo questo è qua giusto? mi entendi questo? si io non so a te come funziona però io fa in realtà l'ho scoperto da poco questa cosa boh cavolo quel fungo adesso lo uccido e adesso lo frego io oh vabbè dieci a tre ragazzi quando si arriva qua? quindici altri cinque punti e possiamo fare grandi cose ma loro hanno la barra piena anche noi però soprattutto anche loro e se non giochiamo bene le nostre carte potrebbero fare un altro punto e forse fare no hanno sbagliato se facciamo lì sotto possiamo fare bingo ne possiamo farlo anche ad altre due parti no cavolo è successo non lo so che ho ripreso loro sicuramente venceranno a quello e nu stanno semmo a far così a quel buchetto là l'ha presa ah io sto per te uh hai già fatto la partita e io non potevo fare più niente adesso cavolo è che fa molto lento lei hai capito? c'è la sua mossa speciale è la palenta se l'ho visto e mi fa mettere ansia perché fa che per non prenderla devono essere proprio scemi wow cavolo l'avevi fregato però wow e ci stava fregando anche a noi e che vedi in qualsiasi parte possiamo fare bingo e vai boom 12 a tre ragazzi non hanno scampo non hanno scampo stavolta non c'è stata la partita eh con questo set abbiamo veramente scusato abbiamo veramente ripreso alla grande wow attenzione mannaggia è una cosa incredibile basta wow bella vai per fortuna fai i gialli quando ha rubato quando ha finato adesso sto fregando no 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 ho preso no ma è sbagliato no la rete no a noi 12 a 4 no vabbè su potrebbero fare il bingo quindi proteggiamo quella parte forse è il caso forse è il caso cavolo per poco ma è giusto cavolo ma buona possibilità come ho saltato prima wow cosa è successo non lo so come hai fatto a tirare wow sì abbiamo fatto il bingo perché ho fatto la punta ma che fai 13 a 4 boom boom ora tira una gran cannonata boom no come è il bingo per due abbiamo vinto abbiamo voglio vedere questa sera finale boom 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 15 a 4 ragazzi ebbè siamo uno a uno e vai completamente pari quindi il terzo set lo facciamo sì lo facciamo la prossima volta eh sì ragazzi e riprendiamo proprio da qui la prossima volta speriamo che vada bene perché ah no abbiamo fatto proprio l'incontrario il primo set è 15 a 5 il secondo set è 15 a 4 abbiamo fatto proprio l'incontrario e già dall'inizio abbiamo preso una piega quindi l'ultimo mmm abbiamo preso una piega per bene anche perché il terzo set è quello decisivo quindi dobbiamo stare veramente attenti e difenderci e difenderci per bene dobbiamo sfruttare ogni situazione ma ovviamente questo accadrà soltanto se raggiungete i 25 mi piace perché l'altra volta l'avete raggiunti e quindi li raggiungeremo anzi li raggiungeremo anche questa volta ovviamente arriveremo al terzo set boom boom io direi che possiamo fermarci con questo episodio lasciate mi piace commentate e iscrivetevi al canale se ancora non avete fatto ciao a tutti ciao ciao